Il piano ambientale definito, le prescrizioni definite nel decreto del Presidente del Consiglio del 30 settembre sono le più avanzate in Europa, sono più avanzate delle cosiddette banche, cioè le migliori tecnologie definite a livello europeo. In particolare prevedono la copertura dei parchi minerali che sono uno dei temi chiave per la città di Taranto e io credo che sia un passo avanti decisivo. Signor Ministro, l'annunciato ricorso di Regione Puglia e Comune di Taranto al DPCM del 29 settembre può rappresentare un ostacolo alla trattativa? Io sono convinto che il ricorso non ci sarà perché non sarebbe una cosa logica. Il Comune ha conferito un incarico ad un legale? Sì, lo so, vedremo, però io credo che non sarebbe una cosa logica perché il piano ambientale risolve alla radice i problemi posti dalle stesse istituzioni locali e prima di tutto dagli obiettivi che bisogna perseguire per il benessere dei cittadini tarantini. Quindi credo che sarebbe ben singolare un ricorso nei confronti della soluzione del problema. Grazie a voi.